Il ponte di Pievetta, tra Castel San Giovanni e la sponda lombarda del fiume Po, si conferma un malato grave. L'esito dello studio commissionato ad una società di ingegneria per testare le condizioni di salute del vecchio manufatto ha confermato ciò che tutti già sanno, e cioè che il viadotto che collega il pavese al piacentino è in condizioni pessime. Per questo motivo la provincia di Pavia, ente titolare del ponte, ha confermato in via definitiva una misura che era stata adottata lo scorso autunno. Lo studio ingegneristico che ha effettuato lo studio, spiega il presidente della provincia di Pavia Vittorio Poma, è arrivato alla conclusione che, in assenza di interventi strutturali importanti, il passaggio dei camion sarà limitato a mezzi con peso non superiore alle 10 tonnellate. Si calcola che servirebbero dai 5 ai 7 milioni di euro per rimettere in sesto il vecchio ponte di Pievetta, soldi che non ci sono, di qui la decisione di introdurre questa ulteriore limitazione che si aggiunge alla precedente quando lungo il ponte di Pievetta venne ridotta la velocità di transito da 90 a 70 km orari.